Cosa fa un consulente di viaggio online nel pratico? Il consulente di viaggio online si occupa di trovare la soluzione di viaggio più in linea con le aspettative del cliente. Il bravo consulente di viaggio online infatti non si ferma alla richiesta espressa, ma dedica del tempo per parlare con il cliente, per cercare di capire cosa si aspetta e conoscendo la destinazione sa cosa evitare per non fargli vivere dei disagi. Una volta raccolte queste informazioni, il consulente decide se organizzare direttamente il viaggio mettendo insieme i singoli servizi, volo, hotel, trasferimenti, eventuali attività, avvalendosi di piattaforme di prenotazione messe a disposizione da Evolution Travel oppure optare per lavorare in intermediazione, quindi affidandosi ad un tour operator che costruisca il viaggio. La fase conclusiva è quella dell'invio del preventivo al cliente e del valutare con lui se la proposta è in linea con le sue aspettative. Se trasformare la tua passione per i viaggi in un'attività è qualcosa che ti interessa, vai sul link in bio e scarica la guida gratuita per capire come diventare consulente di viaggio online. Troverai risposta a tutte le tue domande.